Bentornati su Recensioni per Scegliere, oggi parliamo di contenitori per la raccolta differenziata. In questo video parliamo di raccolta differenziata e lo facciamo andando a montare nel sottolavello qua in cucina una pattumiera per la raccolta differenziata. Prima di andare a vedere il prodotto, andare a vedere come si monta e come funziona, vi chiedo come al solito di mettere un mi piace sotto al video per supportarmi e farmi crescere col canale, iscrivetevi cliccando qua sotto sulla campanella per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su Recensioni per Scegliere e qua sotto in descrizione trovate il link a questo prodotto, ad altre varianti di questo prodotto e anche il link al nostro canale Telegram e canale Instagram dove andiamo a pubblicare offerte e buoni sconto per acquistare online. Ma ora andiamo subito a vedere il contenuto della confezione e vi spiego come funziona. Si tratta di un prodotto veramente semplice, realizzato con un filo di acciaio cromato nella parte esterna della struttura, due contenitori in questo caso, due contenitori da 24 litri in plastica dotati di maniglie e coperchio che adesso andremo ad assemblare e ovviamente è dotato di un carrello scorrevole che ci permetterà una volta aperta la porta del lavello di andare ad aprire la nostra pattumiera e andare a gettare i nostri rifiuti. Nel nostro caso abbiamo scelto la versione con due serbatoi da 24 litri ma ci sono a disposizione diverse soluzioni anche con tre o quattro serbatoi ovviamente starà a voi scegliere poi qual è la parte di differenziata che volete gestire all'interno del sotto lavello. Sarà necessario andare sempre a prendere le misure del prodotto in modo da verificare che si possa montare correttamente sotto al lavello e non vada a interferire con i tubi dell'acqua. Nel caso specifico le dimensioni del modello che abbiamo scelto noi sono di 30x45x46 cm. Oltre ai due serbatoi con tappo e maniglia troviamo all'interno anche delle etichette colorate che potremo attaccare al coperchio nella parte superiore in modo tale da distinguere facilmente con i colori serbatoi di raccolta differenziata. All'interno troviamo già anche le viti che ci serviranno poi per andare a fissare il carrello direttamente sulla nostra base del sotto lavello. Adesso vi lascio al montaggio del cestone nel sotto lavello così lo vediamo in funzione. Per il montaggio andiamo a posizionare i nostri bidoni all'interno del sotto lavello andando a posizionare magari dei pezzi di scotch per fissare i punti poi andiamo a segnare la scanalatura in cui andremo a inserire la vite quindi con un giravite andiamo a creare il buco in modo tale da facilitarci per avvitare la vite sempre manualmente o volendo utilizziamo un trapano. Una volta che abbiamo posizionato i quattro buchi andiamo a inserire la struttura e andiamo ad avvitarla in questo modo sarà ben salda. Prima di andare a serrare completamente le viti controllate che il carrello si apra in modo corretto anche inserendo dentro i due bidoni. Come vedete i bidoni sono ben accessibili con le maniglie possiamo anche mettere i sacchetti e andarli a bloccare e quindi avremo la nostra piccola isola ecologica pronta per essere utilizzata. Come al solito se avete delle domande potete lasciare un commento qua sotto rispondo sempre a tutti fatemi sapere se voi utilizzate altre soluzioni tipo queste per la raccolta differenziata e come vi trovate questa soluzione ci permette di andare a installare in un secondo momento magari in una cucina in cui non avevamo previsto la raccolta differenziata quando l'abbiamo acquistata andare a creare una soluzione ottimale in base a quelle che sono le nostre esigenze infatti oltre alla versione come abbiamo detto da due serbatoi è possibile anche acquistare delle versioni con tre o quattro serbatoi in modo tale da poter differenziare magari l'umido la plastica l'indifferenziato e la carta tutto in un'unica zona di raccolta differenziata. Spero che il prodotto vi sia piaciuto come al solito iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere tutti i video che andiamo a pubblicare ogni giorno su recensioni per scegliere per questo video con la raccolta differenziata è tutto noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere ciao da Rico